Regione Liguria, nell'ambito del programma Interreg Alcotra, ha finanziato il progetto ADVITAM con l'obiettivo di migliorare la resilienza del territorio di montagna vulnerabile ai rischi di smottamento. Cambiamenti climatici e aumento della popolazione mettono questi territori ancora più a rischio franoso rispetto al passato. Con ADVITAM abbiamo sviluppato strumenti, monitoraggi permanenti come hotspot GPS, modelli previsionali utili a descrivere e comprendere i meccanismi geologici finalizzati a realizzare previsioni accurate. In campo, lo studio dei fenomeni franosi storici e l'utilizzo di almeno tre sistemi operativi innovativi per la prevenzione, la previsione e l'allarta, basati sulle frequenze delle precipitazioni analizzate su siti rappresentativi del territorio. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS